Il momento di parlare di sport a cominciare dal calcio. Ieri sera Svizzera Italia si sono chiuse fra l'altro anche le Paralimpiadi di Tokyo, un'edizione particolarmente fortunata per l'Italia. Ieri come detto la cerimonia di chiusura, noi di questo e altro parliamo con il nostro Paolo Pacchioni. Ciao Paolo. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Una buona giornata, partiamo subito dal calcio, partiamo da ieri sera, un altro pareggio, insomma dopo questi esaltanti europei, il settembre degli azzurri sembra un pochino sottotono, un po' deludente, no? Che dici? Eh sì, forse ce l'avamo abituati un pochino troppo bene all'europeo che è stato un mese esaltante. Forse l'Italia adesso ha perso quella compattezza, quella brillantezza che l'ha consentito fra giugno e luglio di andare anche al di là dei propri limiti. Adesso siamo tornati un pochino sulla terra, poi come sempre dopo una grande vittoria ci sono sempre un po' di difficoltà nel rimettersi in moto. Fatto sta che insomma siamo di fronte a due pareggi che complicano un pochino il cammino verso il Mondiale. Nulla è compromesso, ma insomma la Svezera è quattro punti indietro, ma anche due partite da recuperare, quindi potenzialmente è a rischio il primo posto del girone per l'Italia. E come abbiamo raccontato e sottolineato più volte sarebbe opportuno arrivare primi nel girone per arrivare al Mondiale senza patemi e senza dover passare dai play-off. C'è poi il record dei 36 risultati utili consecutivi raggiunti ieri sera dalla Nazionale Italiana, ma insomma questi sono primati un pochino sterili perché poi l'unica cosa che conta è la classifica del girone. E come detto lì, il primo posto adesso è a rischio. Bisogna subito tornare in campo dopo domani e vincere assolutamente a Reggio Emilia contro la Lituania. Ecco, lo dicevamo prima Paolo, una prestazione un po' deludente. Come si spiega lo 0-0 in casa della Svizzera? Guarda, ieri sera l'Italia, pur non giocando in modo brillantissimo, comunque delle occasioni importanti le ha avute, però non le ha realizzate e ha denunciato ancora una volta un problema realizzativo. Ieri sera l'Italia ha avuto le due migliori occasioni che una squadra di calcio possa avere, cioè un uomo solo davanti al portiere avversario e un calcio di rigore. Però Berardi nel primo tempo solo davanti al portiere si è fatto respingere la conclusione da Sommer e poi nel secondo tempo Giorginio ha sbagliato il rigore. Peraltro tirandolo quasi con sufficienza, con una conclusione debole, preceduta da un saltello, insomma non ci è piaciuta il tentativo di trasformazione da parte di Giorginio. Ed è chiaro che se una squadra è in difficoltà, perché siamo un po' a inizio stagione, in pieno rodaggio, la condizione è ancora al top, dicevo se una squadra in queste condizioni ha delle occasioni così importanti e poi non le sfrutta, è chiaro che poi arriva la mancata vittoria. Staremo a vedere Paolo, comunque insomma per tutte queste partite c'è la squadra di noi di Regolo, vogliamo ricordare che insomma ieri sera avete fatto un lavoro bellissimo e facciamo seguire tutti i momenti salienti in generale, insomma la radiocronaca di queste partite è da seguire insieme qui su RTL cento due cinque. Allora cambiamo argomento perché abbiamo accennato in apertura che c'è molto alto di cui parlare in ambito sportivo perché ieri allo stadio nazionale di Tokyo in Giappone si è chiusa questa edizione particolarmente fortunata delle Paralimpiadi, naturalmente edizione particolarmente fortunata per l'Italia, Paralimpiadi di Tokyo, che bello! Beh il bilancio è assolutamente lusinghiero per l'Italia che nella top ten mondiale gli azzurri hanno chiuso al nono posto nel medagliere portando a casa in totale 69 medaglie, 24 ori, 29 urgenti, 26 bronzi, sono stati veramente tutti molto molto bravi, chiaro che negli occhi resta ancora l'impresa nella tripletta dei centometri femminili con il podio tutto italiano con Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto, però insomma nel fare i complimenti a loro li facciamo a tutti i 115 atleti italiani che hanno vissuto un'esperienza magnifica a Tokyo, qui ci sono due cose da sottolineare, c'è l'aspetto sportivo perché comunque le imprese sono state di assoluto livello, perché stiamo parlando di veri atleti di prima categoria e poi c'è il messaggio sociale, quello che ci insegna e che ci ribadisce che insomma le barriere ci sono ma se si vuole, se si ha volontà, costanza, metodo si possono anche superare e questo è un messaggio molto importante che arriva a tutti coloro che magari stanno attraversando un momento di difficoltà e vedendo chi ce l'ha fatta possono avere una speranza in più Grazie, grazie per queste belle parole Paolo anche di speranza per questi ragazzi che magari stanno vedendo le Olimpiadi come un sogno e si sentono come dire un po' in difficoltà perché appunto magari hanno qualche menomazione che gli impedisce di andare avanti Bel messaggio, grazie Paolo Pacchioni, ci risentiamo naturalmente nei prossimi giorni, a presto Grazie a voi, buona giornata